Casio, 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 ma cosa combini? Buongiorno, buonasera, a seconda nasce tutto con l'MDV106, detto anche duro, detto anche Marlin. Marlin perché è presente questo pesce, pescione, sul quadrante dell'MDV106, duro perché è duro nelle dimensioni, molto maschio, 44 di diametro, perché è un orologio sportivo, perché nonostante il prezzo molto basso è un water resistant 200 metri, quindi un sub. Poi la fanbase è fortemente, come dire, esplosa quando molti hanno saputo, ci sono delle immagini, magari se trovo qualcosa me la metto qui sotto come sfondo le mie parole, Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del mondo, che potrebbe avere al polso qualsiasi cosa, lo possiede e lo ha tenuto anche durante conferenze, eccetera. Non poca cosa. Purtroppo l'MDV106, detto anche duro, solo mercato America e solo mercato asiatico, giapponese, non per l'Europa, non per l'Italia. Io lo comprai circa 5 anni fa da Amazon.com, ricordo che su Casio Global costava di listino 44, 46 dollari, qualcosa del genere. Io lo comprai a 60 euro da Amazon.com, compreso spedizione, sdoganamento, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, ce l'ho ancora, eccolo qui, il mio Casio MDV106 originale. Successivamente uscirono due versioni, due varianti cromatiche, perché l'originale è questo, nero dial, nero bezel. uscì la versione blu e la versione nera con accenti, accenti dorati molto interessanti. Finalmente, se non ero nel 2021, Casio accontentò l'Europa con l'MDV107. Di fatto è lo stesso orologio, possiamo ancora chiamarlo Casio duro, cambiano due cose. Un upgrade, il quadrante forse leggermente migliore nella lavorazione, e gli indici sono realmente applicati. Sul 106 in realtà davano l'impressione di esserlo, ma erano e sono stampati. Però perde il pesce, il Marlin, ecco, la versione 107 non ha il pesce, quindi forse non possiamo più chiamarlo Marlin come il 106. Questione invece di, negli ultimi tempi, l'ultimo mese, Casio, genialata, propone due novità di fatto. Una, che può anche essere interessante, il 107, che tra l'altro in tante versioni lo propone braccialato. Chiaramente aumenta. Il prezzo che era già aumentato è il 107, ragazzi, rispetto al 106. Vi metto le slide, costa decisamente di più. Però decidono di riproporre lo stesso layout estetico, quindi il duro, però più piccolo. Io lo definisco, la battuta è facile, lo definisco barzotto, ma è arrivato. Perché? Perché, ok, innanzitutto lo avete diminuito nelle dimensioni, ma avete scritto sul sito 38 mm di diametro. Io vi metto il link, mi sembra, due recensioni in inglese di due che lo hanno comprato, youtuber chiaramente, lo hanno comprato. Se non è tramite ebay da UK, entrambi dicono dovrebbe essere originale, ma non lo garantiscono. E tutti e due fanno vedere che in realtà il diametro non è 38, ma è 36. Se si somma la corona arriva a 38, 38, 39, quindi non si capisce le dimensioni quali siano quelle corrette, detto che bisogna capire se quei due orologi sono effettivamente originali. Comunque, altre cose che effettivamente, e comunque questo dato viene dato appunto anche sul loro sito, i 200 metri si fumano 150 metri perché passa da 200 metri a 50. E come conseguenza, forse anche logica, perde la corona vite e diventa una corona a pressione, forse ancora peggio perde il fondello avvitato per un semplicissimo fondello a pressione, che lo troviamo oramai, il giorno d'oggi solo su orologi, veramente veramente cheap. Voi direte, che problema c'è? Me lo fai pagare di meno, Casio me lo farà pagare di meno, perché questa è l'idea. E invece Casio dice, no, invece dei 79, l'MDV 107 come prezzo consigliato sul loro sito è 79 euro, per la versione braccialata hanno aumentato, mi sembra, oltre 90, per l'MD, perché si chiama così, MDV 10, A, B, C, D, a seconda dei colori, cinturini, eccetera, mi hanno detto, ma sai che c'è? E aggiungo 10 euro, 89 è quello consigliato. Quindi da 79 l'MDV 107, il vero duro, poi il vero duro è il 106, comunque, per intenderci il 107, a 79 euro, 89 è quello che perde, 150 metri di water resistant, perde la coronavite, perde il fondello abitato, e vabbè, non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate, se volete pensare di acquistarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, io chiudo il video, è stato molto rapido, ciao!